Momenti di paura questa notte a Casalbordino in via Porta Nuova. I gnoti hanno assaltato il bancomat della Biper. Il colpo è stato messo a segno intorno alle tre di notte. I malviventi hanno fatto saltare lo sportello e hanno asportato il cuore dell'ATM. Alcuni residenti sono stati svegliati in pieno sonno da un grande boato e hanno visto subito dopo delle auto fuggire a tutta velocità. Con ogni probabilità si tratta di veicoli rubati in zona per mettere a segno il colpo. Ingenti danni subiti dall'Istituto di Credito Casalese, la violenta deflagrazione ha fatto saltare tutti i vetri all'interno della filiale e il controsoffitto. Sull'episodio indagano i carabinieri che sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, quest'ultimi impegnati nel mettere in sicurezza la zona. Il direttore della filiale casalese, Fabio Esposito, si è espresso così su quanto accaduto. Sono stato svegliato nel pieno della notte dai carabinieri che c'era necessità di arrivare con urgenza in filiale proprio perché ero stato avvisato di questo assalto al banco, ma mi sono precipitato, ho trovato i carabinieri forse dell'ordine, i vigili del fuoco che comunque tentavano di entrare. Siamo entrati e abbiamo scoperto che in realtà c'era stato un assalto presumibilmente con dell'esplosivo e quindi la filiale è stata fortemente danneggiata. Per quanto riguarda i danni non siamo ancora in grado di stimare nulla ancora, sono in corso le opere del caso, quindi da rimandare una valutazione a un momento successivo. È stato asportato via il cuore del banco, Matt, più o meno l'importo lo sapete o no? Non siamo assolutamente in grado di dire nulla al momento, ne possiamo ne sappiamo. Per quanto riguarda invece la cassa continua non avete subito danni? Non ancora riusciamo ad avere contezza di questa cosa, per quanto riguarda i dettagli non siamo in grado di dire nulla. Il primo cittadino di Casalbordino, Filippo Marinucci, si è detto preoccupato per questo episodio criminale ribadendo che si tratta di professionisti ed invita ad un maggiore presidio del territorio.